Uno dei personaggi anche molto impegnati su questo fronte era invece oggi presente a un dibattito in cui si parlava di globalizzazione e diritti umani. Sto parlando di Kerry Kennedy, ma con lei anche un'altra protagonista, Cherry Blair. Donne, diritti, alta formazione. Questi temi del dibattito che si è tenuto alla Facoltà di Sociologia dell'Università di Trento. Ospiti d'eccezione, Cherry Blair, avvocato specializzata nella difesa dei diritti umani, nonché moglie dell'ex primo ministro britannico Tony Blair. E Kerry Kennedy, scrittrice e attivista americana nell'ambito dei diritti umani. L'incontro sulla globalizzazione e diritti umani, moderato da Barbara Serra, giornalista della BBC, Sky News e nonché conduttrice televisiva di Ajazira Londra, è stato particolarmente apprezzato e condiviso dal pubblico. Numerosi gli studenti presenti in aula, diverse le tematiche affrontate, dall'universalità del sapere alla forza dell'educazione come motore del progresso. Dal sostegno all'accesso delle donne all'alta formazione, alla valorizzazione delle loro potenzialità, come chiave per la crescita di una nuova leadership, in grado di incidere nello sviluppo dei paesi emergenti. All'incontro ha partecipato anche Kamal Ahmad, presidente dell'Asian University for Women, che dal 2008 promuove l'istruzione delle donne provenienti dai paesi asiatici. Laura Moretti, Sky TG24